Elezioni europee 2019 sono andate esattamente come io una quindicina di giorni fa ho fatto un video dove dicevo che succedeva questo e sono esattamente andate come avevo pronosticato, è sempre così, anche dieci anni fa tutto quello che sta succedendo oggi che sembra incredibile, la scelta nazionalista della Lega, tutte cose che io dieci anni fa pronosticavo e mi davano del pazzo, tutte cose che poi si sono avverate è andato esattamente come io dicevo, volevo fare questo video siccome si sta parlando di elezioni europee, volevo anche io mettermi di dietro i libri per fare l'aria saputa e mettermi la cravattina perché se metti la cravatta i libri di dietro sembri un grandissimo saputo in realtà per azzeccare queste cose non è che ci voglia molto, allora è stata una crescita della Lega ma soprattutto c'è stata una grandissima stensione quindi c'è questa grande fetta della popolazione italiana la quale ha deciso ormai che non si recua più alle urne in teoria questi voti dovrebbero essere quasi divisi per due o perché in realtà poi quando dicono i partiti noi abbiamo il 20, il 30, il 10 per cedere gli italiani, no in realtà la grande fetta degli italiani ha detto io non mi riconosco nessuno di questi partiti, io non mi conosco nessuno di questi movimenti eccetera eccetera decido di starmene a casa perché non mi riconosce nessuno e ci sono tanti, conosco anche tanti a livello personale che non si riconoscono assolutamente nessuno e quindi se ne sono stati a casa pensando pensano giustamente, sbagliatamente, ognuno ha le proprie idee di dire non vado a votare perché intanto non cambia niente io sono andato a votare, ho fatto il mio dovere da cittadino, ti danno questa possibilità, l'ho fatto, ok sono andato allora come avevo detto prima delle diciamo un paio di settimane fa, crescita forte della Lega, ok ovviamente le percentuali si fanno solo su quelli votanti quindi ripeto non è che le percentuali sono tutti gli italiani i 20, il 30, il 10 hanno dato il voto, no, quelli che sono andati che comunque le classifiche si fanno su queste come dicevo tutti, tutti hanno vinto perché quando ci sono le elezioni ricordatevi sempre, sempre in Italia non ha mai perso nessuno in realtà vabbè quelli che veramente hanno vinto in queste elezioni sono quelli che sono stati votati e sono andati all'Europarlamento, cioè i veri vincitori di queste elezioni sono quelli che sono stati votati Europarlamento, loro sono i vincitori veri di queste elezioni che cosa, no vabbè niente, crescita della Lega, diminuzione diciamo dei 5 Stelle poi che cosa, come io dicevo prima, ovviamente nessuno perde perché poi diranno vabbè la Lega è cresciuta siamo cresciuti, abbiamo vinto noi, i 5 Stelle diranno però noi rispetto a 4 anni fa, 10 anni fa, 4 anni fa siamo comunque rispetto alle altre europee, siamo cresciuti, in realtà i 5 Stelle sono i veri sconfitti di queste elezioni perché in un anno hanno lasciato sul terreno passando dal 30, 32, quasi 33% sono andati veramente in diminuzione, quindi i veri sconfitti sono i 5 Stelle, i veri sconfitti poi magari faremo un video dove spiegherò che cosa sbagliano i 5 Stelle però in ogni caso non hanno perso perché anche loro rispetto alle elezioni di 4 anni fa sono cresciute, solite cose, solito cinema influirà tutto questo a livello governativo secondo me il governo non durerà 4 anni, ve lo dico subito ok, magari all'inizio però prima o poi simuleranno e secondo me poi questi due partiti che oggi formano questo governo che effettivamente non è stato votato da nessuno perché il 4 marzo ci siamo trovati con la coalizione di centrodestra Lega, Forza Italia, cosa c'era? La Meloni, FD, Fratelli d'Italia che andavano contro praticamente i 5 Stelle perché quella coalizione chiamata di centrosinistra, PD che di sinistra non ha niente, ormai era fuori quindi avevamo questi due gruppi i quali, se ne dicevano di tutti i colori hanno fatto questo governo nessuno a noi ci ha detto di questo governo sono andati a fare questo governo hanno fino all'altro ieri prima delle elezioni scaramucci e compagnia varia io sono convinto e ve lo dico forse a voi magari, Robo che questo governo non durerà 4 anni anzi quando si divideranno questi due partiti se ne diranno come prima anzi più di prima e poi mi direte se io non avrò ragione allora fondamentalmente fondamentalmente voi mi direte dopo queste elezioni europee era una cosa scontata comunque il fatto che la Lega è cresciuta e i 5 Stelle sono scesi è vero, io lo sentivo anche nell'aria perché tanti miei amici per esempio che hanno votato i 5 Stelle mi hanno detto l'Ambria e noi la prossima volta non li votiamo più alcuni mi hanno detto che votavano la Lega alcuni mi hanno detto che si sono astenuti comunque molti sono stati delusi dai 5 Stelle poi magari faremo un video dove analizzeremo perché delle delusioni eccetera eccetera che cosa cambia che cosa cambia per gli italiani dopo queste elezioni cioè diminuerà il costo della vita assurdo che abbiamo in Italia un costo della vita anzi anzi mi pare forse non avrei sbagliare che i nuovi aumenti ok delle autostrade pensate che in Germania le autostrade sono gratuite in Inghilterra sono gratuite in Svizzera 35 euro tutto l'anno in Italia mi pare che forse le hanno inviati dovrebbero forse ancora esserci degli aumenti ma abbiamo dei costi assurdi abbiamo costi assurdi su tutto abbiamo dei costi assurdi a cominciare dei carburanti a cominciare dei farmaci a cominciare tutto quello che ho sempre fatto vedere l'anno i costi di vita diminuirà qualcosa secondo me non diminuirà nulla stipendi 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 parliamo di stipendi da fame che girano in Italia al sud Italia robe allucinanti in nord Italia abbiamo stipendi da 1200 1300 se va bene 1400 1500 aumenteranno gli stipendi di operai aumenteranno gli stipendi di impiegati poliziotti pompieri carabinieri libri tornitori fresatori saldatori impiegati impiegati tecnici tutti questi stipendi che viaggiano dai 1200 ai 1500 in un paese allucinante per il costo della vita aumenteranno aumenteranno di 5 euro aumenteranno di 10 di 100 di 1000 dovrebbero essere aumentati di 500 600 euro questi stipendi che sono fermi ormai da 20 anni con un potere d'acquisto veramente vomitevole aumenterà cambierà qualcosa cambierà qualcosa dopo queste elezioni europee che cosa succederà non succederà niente non succederà nulla ok la legge fornero verrà abolita o no visto che è ancora in vigore forse no bella hanno detto secondo me no cambierà qualcosa in Italia aumenteranno gli stipendi aumenteranno sensibilmente gli stipendi visto che siamo veramente a livelli osceni aumenteranno diminuirà il costo della vita diminuiranno il costo di tutto perché veramente io ragazzi ho provato ad andare ultimamente un paio di volte a Milano sono rimasto sconvolto Milano costa quasi come il Ticino forse anche di più di Lugano solo che a Lugano prendono il triplo il quadruplo sono addirittura aumentati del 3% quest'anno il numero dei frontalieri che vanno in Svizzera a lavorare perché ci vanno in Svizzera a lavorare perché gli stipendi sono il doppio il triplo rispetto all'Italia ci sono quasi 70.000 italiani che vanno in Svizzera diminuiranno gli italiani che se ne andranno via scapperanno perché non ce la fanno più io tutte le settimane ricevo decine decine centinaia di messaggi di gente che non ce la fa più l'ambra dammi una mano voglio andare in Svizzera voglio andare in Germania voglio di qua diminuiranno no diminuiranno i prezzi no aumenteranno gli stipendi no 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 perché perché purtroppo in Italia c'è troppo ratta ratta troppo dispersione di soldi per fare questo dovrebbe arrivare non dico una situazione alla Putin ok un Putin ok ma non cambierà assolutamente niente non cambierà assolutamente niente perché perché la gente va bene così alla gente va bene lavorare ore e ore e ore per stipendi da vomito va bene che aumenta tutto va bene il costo della vita e va bene questo quindi queste lezioni che cosa cambierà per i cittadini italiani nulla niente sarà sempre peggio il costo della vita continua a aumentare e gli stipendi saranno sempre con la schifezza